... Abbiamo qui un amico di Pianeta Lecce, allora nome, cognome, e di che cosa hai fatto? Piccirillo Giuseppe... Facci della medaglia, dai Giuseppe, facci della medaglia! Solamente questa è la sofferenza, è stata una battaglia dura, calda, ma soddisfatto di quello che ho fatto. Ho fatto il personale su questo percorso, a casa, il mio 13-34, se non mi sbaglio, sono soddisfattissimo. Ti aspettavi questo risultato? Onestamente no, però devo tanto al mio allenatore, Gianmarco Buttazzo, il quale ha chiuso secondo, sono Nero, che mi ha curato in tutti questi mesi, grazie di vero cuore a lui. Senti, lo possiamo dire tranquillamente che veramente ci sono stati atleti, professionisti, che andavano alla grande, no? Professionisti, c'è stato il chieniano, chiuso 1-1 a livello nazionale, combattere con questi, diciamo, mostri non è facile, infatti sono irraggiungibili, secondo me. Però nel mio piccolo credo di aver fatto il giusto, meritato a questo punto. Senti, tu che sei salentino, che sensazione ti ha dato correre e vedere i monumenti di questa città? Tu che di città ne hai girate tante? Non ho fatto in tempo a guardarli, onestamente. Grazie a Dio li riconosco, non ho fatto in tempo proprio ad osservarli, stavo soffocando, con l'acqua alla gola, diciamo. Va bene, ti lasciamo, un grazie e un in bocca al lupo. Grazie ancora.